buongiorno e benvenuti in un nuovo video oggi video super richiesto ovvero i quali sono i metodi per avere una casa sempre ordinata quindi vi darò dei piccoli trucchi dei piccoli consigli super super veloci per avere più o meno una casa sempre ordinata che non vuol dire pulita ma almeno ordinata ricordiamoci che una casa ordinata è più facile da pulire sigla scusa scusa puoi allora il primo punto che voglio affrontare oggi che metto tra i preferiti è quello dell'ingresso perché sicuramente la prima cosa che incontriamo entrando in casa è la prima cosa che vedono i nostri ospiti entrando in casa quindi consigliato uno suota tasche io ad esempio ce l'ho ho una scatola che riempio con chiavi portafoglio tutto quello che mi capita sottomano scontrini e quant'altro e poi quando è piena la suoto decido di tenere metto a posto suoto divido le cose e quando invece entra gente la prendo e la nascondo ok forse non è il metodo migliore però fa sì che le cose siano tutte dentro una scatola e non sparse in giro per la casa quindi primo punto suota tasche sempre legato all'ingresso è consigliato un attaccapanni e un attaccapanni non stracolmo quindi decidiamo qual è la giacca che utilizziamo in questi giorni ci lasciamo solo quella a volte capita invece di avere un attaccapanni pieno di roba quello fa disordine i nostri ospiti magari si trovano in imbarazzo perché quando entrano in casa non sanno dove mettere la giacca e fa porta ad avere le giacche sparse per la casa sulle sedie in giro per casa e questo fa disordine passiamo alla camera da letto secondo punto è importante tutte le mattine arieggiare la stanza quindi noi il primo la prima cosa che facciamo al mattino quando ci alziamo è aprire le finestre e rifare il letto quindi io apro il letto cioè tolgo sposto le coperte apro la finestra e vado a fare colazione una volta che ho fatto colazione torno in camera una volta che magari mi sono preparata eccetera torno in camera e faccio il letto vi renderete subito conto che la camera cambia aspetto con il letto fatto cioè il letto fatto crea subito ordine molto di più è molto più bello ancora se magari ci piace la coperta la trapunta che abbiamo sopra o piuttosto lo abbigliamo il nostro letto con dei cuscini decorativi questo ci invoglierà a fare il letto e avere una camera così più ordinata stessa cosa quando siamo nel in camera da letto è sistemare i vestiti che magari sono sparsi in giro per la stanza o su una sedia ammucchiati su una sedia diamo un posto a tutto quindi quando la sera ci spogliamo dedichiamo un anta dell'armadio un cassetto un posto comunque dedicato per quegli abiti che magari sono usati ma vogliamo riutilizzare il giorno dopo ad esempio e mettiamo già a lavare il i panni sporchi quindi terzo punto lavatrici non accumuliamo tante roba quindi passiamo al bagno ma perché io la cesta dei panni sporchi in fatalità ce l'ho in bagno non accumuliamo tanti panni sporchi perché questi creano disordine ci creano disordine mentale dobbiamo poi fare magari 3 4 lavatrici in un giorno cerchiamo giorno per giorno di dedicarci alla lavatrice e quindi anche al ritiro e sistemazione dei panni una volta che i panni sono asciutti ritiriamoli e mettiamoli a posto dedichiamo uno spazio per i panni da stirare non ammucchiamoli su una sedia io ho visto in casa di amici pile di sedie o anche mia mamma ad esempio lei mette tutto su una sedia quando la sedia è stracolma inizia a stirare io invece ho un cassetto apposta nell'armadio dove metto le cose da stirare e a mano a mano cerco sempre di non riempirlo a mano a mano la stiro però comunque so che quando è pieno quando non ce ne sta più è giunto il momento di stirare rimanendo ancora un attimo a parlare del bagno una cosa che io ho notato che forse non c'entra con quanto riguarda l'ordine ma forse più per la pulizia è lavare lo specchio io ad esempio una cosa che faccio praticamente ormai tutte le mattine ho trovato un prodotto che mi piace da morire ed è super veloce da utilizzare e ve lo lascio no perché non l'ho ancora pubblicato ma pubblicherò presto il video dei preferiti e praticamente mentre mi lavo i denti lavo il vetro lo specchio scusate perché comunque da uno specchio pulito da subito un'idea di bagno pulito così come gli asciugamani sistemati quindi gli asciugamani magari tutti dello stesso colore magari carini che ci piacciono però sistemati creano subito ordine così come la doccia asciugare la doccia o asciugare ad esempio il lavandino crea subito un'idea di bagno pulito e ordinato passando alla cucina la prima cosa che io faccio al mattino mentre mi preparo il caffè è svuotare la lavastoviglie che ho fatto andare la sera prima questo perché perché dopo la colazione dopo il pranzo dopo la cena andrò ad inserire in lavastoviglie tutte le stoviglie senza accumularle nel lavandino accumulare avere un lavandino sporco crea una cucina sporca e disordinata come secondo me avere un letto disfatto crea una camera da letto cioè automaticamente se hai un letto fatto la camera in ordine magari ci sono dei vestiti qua e là però la camera in ordine così come il lavandino quando il lavandino è pulito la casa la cucina ti sembra già più in ordine così come passare una pezza io dico sempre dopo colazione passa una pezza veloce sui fornelli per non lasciare quelle macchioline odiose magari di caffè o latte che sono involontariamente cadute facendo colazione preparando la colazione una passata veloce poi la pulizia grossa la faremo o dopo pranzo o dopo cena poi nella vita ognuno deve sicuramente giostrarsi i suoi tempi in base alla sua vita i suoi orari noi ad esempio qua siamo in due non avremo uno stile di vita che hanno delle abitudini casalinghe che hanno delle persone che hanno due tre quattro figli noi siamo in due con due gatti ci aiutiamo tanto a vicenda quando non ci sono io cucina paolo mio dio la cucina quando cucina paolo è un disastro però cerchiamo di venirci incontro su tante cose questo è fondamentale tempo è arrivato un ospite speciale che è sempre con noi ma non ci dare la schiena mi guarda storta perché ora della nanda arriviamo al mio punto preferito che è il decluttering non accumulare cose inutili superflue fa già tantissimo per la nostra casa ad esempio parliamo di cose magari un po più importanti i documenti i documenti cerchiamo una scatola carina che sia bella io adesso ho una scatolina ad esempio con scritto buongior dove metto le bollette da pagare una volta che le bollette sono o i documenti le fatture da pagare una volta che le cose sono state pagate le metto via nelle appositi faldoni che ho e vi faccio vedere questa è la libreria che già avete visto sicuramente in altri video in questo sportello qua che ora non vi apro perché è assolutamente un macello di disordine io metto tutta la posta che ho aperto ho letto e devo mettere via quando questo sportello è pieno mi siedo qua per terra e sistemo qua dentro ho trovato questi contenitori del chea che mi piacciono tra l'altro tantissimo e vi faccio vedere praticamente qua ho assicurazione e bolli vabbè l'azienda agricola di paolo posta perché noi abbiamo i conti tutte e due in posta quindi qua dentro ci sono gli estratti conto e quant'altro casa dove tengo le istruzioni di tutto quello che acquisto le garanzie poi vabbè la nostra le nostre in questo ci sono in questo grigio ci sono le nostre buste paga diciamo così o comunque i documenti riguardanti i lavori e qua invece dipendenti appunto cosa c'è scritto documenti personali spese mediche vendo in questo cestinetto che è anche abbastanza carino tengo quelli che sono le spese mediche dell'anno che sapete che poi vanno a finire in dichiarazione dei redditi mentre in questa cesta che è sempre che ha molto carina ci sono tutti i libri contabili quello che serve ecco per l'attività di paolo quindi cerchiamo di non accumulare giornali riviste e per quanto riguarda l'oggettistica cerchiamo di avere meno soprammobili possibili una una forma di minimalismo io dico sempre non ho la casa minimalista perché ho cose in casa ho soprammobili o cornici con foto quindi non ho una casa minimalista però avere poche cose ci aiuta avere una un'organizzazione mentale delle cose che abbiamo e soprattutto facciamo prima pulire c'è poco da fare cioè più soprammobili hai e più hai da pulire e io sono una che invece deve fare sempre veloce veloce così come sopra ai mobili è importante avere ordine anche all'interno dei mobili ed è qua che arriva il mio punto preferito cioè il decluttering imponiamoci una volta ogni tanto in base ai nostri tempi in base ai nostri orari e quant'altro di ehm alla necessità ecco di fare decluttering all'interno degli armadi e all'interno degli armadi intendo tutti gli armadi di casa quindi dall'armadio che contiene il vestiario facciamo decluttering io ad esempio se è una cosa che non utilizzo da una cioè la stagione precedente non l'ho utilizzata o la vendo o la regalo o la butto ma non la lascio lì nell'armadio perché mi crea disordine mi occupa spazio cerchiamo il nostro metodo in base al a com'è formato anche il nostro armadio quindi sia appendere o piegare mettere nei cassetti e qua poi parleremo in un altro video di come io sistemo l'armadio ma vi lascio intanto magari nel box sotto come io ho sistemato il nostro armadio così vedete anche un po' di maricondo nel senso che comunque io piego ad esempio tante cose le metto in verticale le felpe le arrotolo per occupare meno spazio stessa cosa nella cucina nella dispensa cerchiamo di se facciamo un decluttering quindi cerchiamo di fare una bella pulizia approfondita buttare le cose scadute le cose che non mangiamo le cose che non utilizziamo e lasciamo a vista invece le cose che utilizziamo realmente ovviamente avremo sicuramente meno spreco e un ordine mentale anche su magari cosa cucinare e no per quanto riguarda alla sala invece una cosa che faccio al mattino è sistemare il divano quindi io dopo aver aperto le finestre ha fatto colazione prima di andare a fare il letto sistemo il divano perché non lo posso vedere in disordine ma immancabilmente ogni mattina lo trovo in disordine perché alla sera prima di andare a dormire non ho voglia di piegare le coperte non ho voglia di sistemare i cuscini poi io vedete tengo sempre una coperta sopra il divano perché ci vanno i gatti quindi poi devo anche aspirare il divano ma non lo faccio quotidianamente perché non ho tempo se vado a lavorare al mattino di mettermi ad aspirare il divano quindi tengo su una coperta che scrollo al mattino risistemo piego i cuscini li sistemo bene un divano ordinato magari con dei bei cuscini con delle belle decorazioni fa già la sala in ordine per quanto riguarda l'oggettistica vi dico l'ultimissima cosa per quanto riguarda l'oggettistica è un consiglio io ad esempio giro con un cestino quando inizia ad esserci un po troppo caos in casa giro con un cestino ma mi immagino anche una famiglia con dei bambini con giochi sparsi ovunque io giro con un cestino e raccolgo raccolgo tutte le cose che sono fuori posto le metto questo dentro le metto dentro questo cestino e le vado a sistemare oppure se sono in ritardo che non è il momento perché non ho tempo lo lascio da qualche parte in un armadio nascosto che nessuno lo veda e poi quando ho tempo lo sistemo però ecco raccogliere gli oggetti non lasciarli non accumularli è sicuramente un punto fondamentale ad esempio mi viene in mente le riviste che forse ho già citato i deplian dei supermercati i giornali non teniamo le cose che e qua forse un po si lega anche al minimalismo però non teniamo le cose o come direbbe la nostra amica maricondo teniamo solo ciò che ci dà gioia i giornali creano polvere e creano disordine se non sono necessari che ci servono per qualsiasi motivo e allora avranno un loro spazio perché se ci servono hanno un loro spazio in casa dedicato dobbiamo farli fuori ultimissima cosa ragazzi vi chiedo di lasciare un pollicione all'insù se vi è piaciuto questo video per farmi capire che vi è piaciuto questo video oppure scrivetemelo nei commenti e iscrivetevi al canale o attivate la campanellina perché mi hanno comunicato che da youtube ci sono dei problemi e non arrivano le notifiche quindi se vi va di vedere altri video iscrivetevi al canale alla prossima